Il giorno che mi dai una mano a scaricare. Se t'aiuto io non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Se non fossi i miei sorelli, io gli avrei dato la coltellata. Papà, ci mette pure te, eh? Signora, posta. Che c'è? Vuol firmare per piacere? C'è da firmare? Sì, ne raccomandate. Viene dal comune, hanno preso mio marito. Sono arrestato? No, gli hanno dato un posto. Che bella notizia, chissà come sarà contento. Mettetemi la sedia qui, lo voglio proprio gustare. Che è successo? C'è una bella notizia per te. Ma che dovete vedere? Finalmente è arrivato il momento tuo. Tiè. So' proprio contenta, specialmente per quelli che t'hanno sempre canzonato. E che ci hanno fatto subì tante umiliazioni. Tiè, parli per me? Sì, anche per te. Scusa, sei mio fratello, ti voglio bene, ma Odella è mio marito. Te lo devo proprio dire. Sono tanti anni che lo fai soffrì, eppure sofferti in silenzio. Io no. Perché tanto ce ne hai fatti i mani a pochi dei bocconi amari. Adesso non potrei più dire che Odella mangia il pane a uffa, che non c'ha voglia di lavorare. E quant'è stata a fallunga per uno che è la prima volta che va a lavorare. Ma chi va ha detto che vada a lavorare? Oddio, che dici? Ma che stai dicendo? Ma la avete letta una lettera? No, che c'è scritto? Ci onoriamo di comunicarle che è stato assunto in servizio come dipendente comunale in qualità di uomo di fatica ai mercati generali. E' uomo di fatica è un bel posto e guadagna anche bene. Adesso a parte la questione di denaro, ma mi volete spiegare che cosa vuol dire uomo di fatica? Vuol dire facchino. La mattina d'alziate tre e ai quattro comincia a scaricare. E che cosa dovrei scaricare se è lecito? Tutto. Sacchi di patate, casse di frutta, colonne di ghiaccio. Ghiaccio è fredda, specie d'inverno. Ma chi dice niente? E non devi dire niente. Te capita la fortuna da poter entrare come facchino. Dici, no? E chi dovrei ringraziare per sto bel posticino che mi avete trovato? Perché io ho fatto la domanda per entrare nella polizia municipale, mica per fare il facchino. C'è scritto lì, non lo vedi? Il posto l'è stato concesso per aderire al desiderio del suo eroico bambino. E chi sarebbe l'eroico bambino? So io, papà. Ti ricordi quest'estate quando andavo a fare i bagni? E salvai quel ragazzino che stava per affogare? Il figlio era l'assessore comunale? Beh, gli ultimi giorni di scuola è venuto il sindaco e ci ha fatto un discorso. Alla fine ha detto se tu quando aveva salvato il figlio dell'assessore comunale. Sì, ho detto io, ma ha dato una mano e mi ha chiesto se hai un desiderio di esprimere. E tu che hai detto? Dato un posto a mio padre, che c'è tanta voglia di lavorare. Io posso questo non sgambuzino e vengo. Ho detto, hanno dato un bel posto, non c'ha niente da dire. Papà, hai visto che la patria si è ricordata di te? Ma questo malizosso ti metti a mano a tavola? Ma ti lavai le mani? Eh no, così farsi dalla parte del torto. Che fai dei sfoghi su st'animo innocente? Ma ma sto il padre io, se gli do uno schiaffo su un becchio. E' facile a fare l'eroe, eh? A buttarsi a fiume, a salvare il figlio dall'assessore comunale. E poi come premio che fa? Mani tuo padre al falfachino? Odè, non ti avvi lì, non ti abbassi. Lo so benissimo che è duro, ma ti devi rassegnare soprattutto per mio fratello, eh? Ma che c'è? Che niente non gli vado ad andare a fare il falfachino? Scusate, perché dovrei mentire a voi che siete la mia famigliola? Se dipendesse da me, no, non me va. Ma come, per 12 anni ho vestito la divisa da sergente, adesso che mi metto quella da falfachino? Ma che aspetti che vi è un'altra guerra? Tanto non vi è. Beh, su questo ci sarebbe anche da discutere, no papà? Ho detto, tra una guerra e l'altra bisogna che te decidi a fare qualche cosa. Infatti non l'avevo fatta la domanda per andare alla polizia comunale, ma il falfachino no. Ma come nella polizia sia il falfachino no? E allora Paganini perché suona il violino? E tutti gli dicevano fa il barriere. E lui no, voglio suonare il violino, ecco come è diventato Paganini. A Paganini tu il violino non lo suoni, se da lunedì non vai a lavorare, sta tavola non ci mangia più, va bene? Sei contento di avere un padre falfachino?